Per me puoi essere quello che ti pare, basta che ti piaccio io. Allora sei sicura che non ho tornato a madre? Sì, sicurissima. Ok. Ma non ho messaggi a tuoi? Dì che dormi qua. È la prima volta per te? Io? Sì. Per te? No. Però con te sono diversa. Perché?